Troppo spesso le cronache parlano di violenza perpetrato subita dagli adolescenti, episodi che a volte finiscono in vere e proprie tragedie, come quella del giovane Christopher morto accoltellato a 16 anni in pieno centro a Pescara. Di quel delitto sono accusati i due suoi coetanei. Episodi estremi, sì, ma c'è il limbo delle violenze fisiche e psicologiche che quotidianamente interessano ragazzi e famiglie. Se ne discute nel ventitresimo congresso nazionale di psicologia giuridica, oggi e domani a Chieti, nell'auditorium del rettorato dell'Università d'Annunzio, congresso organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica con i laboratori di psicologia forense e psicologia clinica del Dipartimento della D'Annunzio. Maria Cristina Verrocchio, docente di psicologia clinica. L'Università di Chieti Pescara e l'IPG, l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, ritiene davvero urgente e indifferibile occuparsi dei nostri giovani, in modo particolare dei giovani che fanno molta fatica a vivere questa fase della loro esistenza e poi delle violenze, perché siamo pieni di notizie. Abbiamo iniziato a organizzare comunque questo congresso un anno fa e il focus dei due giorni sarà occuparsi sia dei perpetratori, quindi dei giovani che agiscono violenza, delle vittime, degli adulti, di cosa possono fare e poi questo verrà comunque detto da parte di magistrati, avvocati, psicologi. Insomma, quindi ci occuperemo di questa violenza tra i giovani da vari punti di vista, come è necessario fare. È una domanda difficile, ma come poter arginare il fenomeno? Dove agire sui ragazzi, sui genitori, sulla società? Dove? Senza dubbio a più livelli e da parte di diverse istituzioni, anche i genitori stanno soffrendo molto e fanno fatica, quindi vanno supportati. La cosa più importante è forse imparare ad ascoltare di più questi giovani di oggi, che spesso invece tendiamo a giudicare. Vanno compresi e i loro comportamenti, anche questi di violenza, non vanno certamente giustificati, ma vanno compresi nei loro significati più profondi, perché comunque sono ragazzi che soffrono. L'ascolto innanzitutto, affinché non ci siano poi fatti irreparabili? Sì, appunto, bisogna andare nelle scuole, bisogna parlare con i genitori, bisogna imparare ad intercettare quei famosi segnali che spesso dalle cronache, diciamo, non c'erano segnali, appareva tutto normale. Noi tecnici sappiamo che non è così, i segnali ci sono, però probabilmente dobbiamo lavorare di più per insegnare a tutta la comunità educante e ai genitori a come comprendere. Prima che diventi un disagio troppo importante, poi si arrivi a fare cose terrificanti. Se presto ci sarà la figura dello psicologo scolastico, famiglie e ragazzi sovente si ritrovano soli e occorre un aiuto concreto? Sì, i ragazzi vivono una profonda solitudine, spesso anche se non lo danno a vedere, e molti genitori con i quali poi noi lavoriamo, anche loro ci dicono che non hanno strumenti. L'ascolto e poi le diverse istituzioni a vari livelli aprirsi anche di più, cioè fornire più aiuti anche nelle scuole, agli stessi genitori, non solo ai ragazzi, quindi sicuramente c'è tanto da fare.